Keter Italia nasce dall'evoluzione di Arredoplast, azienda nata nel 1972 in provincia di Treviso che, grazie alla lungimiranza dei suoi fondatori, ha saputo diventare leader nella produzione di prodotti in resina per la casa e il tempo libero. Oggi è parte del progetto L'Eroamer Lenconi Made in Italy, creato per supportare, promuovere e valorizzare la qualità delle aziende italiane che collaborano con l'Eroamer Len. Nonostante il brand sia oggi proiettato in una dimensione multinazionale, i valori su cui si fonda l'azienda non sono cambiati. Investimenti nell'innovazione, continua ricerca nel campo del design e un saper fare tutto italiano. Keter Italia ha infatti mantenuto uno stretto legame con le comunità locali e con il territorio e ha intrapreso un percorso di sostenibilità basato su un'economia circolare. Una serie di scelte virtuose che rendono Keter un marchio Made in Italy riconosciuto in tutto il mondo. L'Eroamer Lenconi Made in Italy, migliorare la casa, migliora anche il paese.